Il mercato del gas naturale, il prezzo al punto di scambio virtuale del gas in Italia, è passato dai circa 20 euro al megawattore di gennaio 2021 ai circa 100 euro del mese di aprile, con punte giornaliere record di oltre 200 euro. Lo ha affermato il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani alla Camera, nell'informativo sull'aumento dei costi dell'energia, evidenziando le violente fluttuazioni anche per l'energia elettrica. Per Cingolani è necessario che l'Europa si metta d'accordo. Essendo il principale customer planetario, può un po' fare il prezzo e mettere una regola che sia sostenibile. Grazie a tutti.